Qualcuno diceva voi siete il governo dell'austerità, guardi io non so voi che cosa intendiate, io sono una persona abbastanza distante dal tema dell'austerità, se poi per austerità si intende tentare di mettere le pezze a un provvedimento che ha costato decine e decine di miliardi, che ha lasciato nelle casse dello Stato un buco di 40 miliardi per efficientare meno del 4% degli edifici, di cui gran parte, seconde case, scaricando su ogni italiano un debito di 2000 euro, anche sugli italiani che una casa non ce l'avevano, per aiutare le banche a lucrarci sopra, quella non è austerità, quella è serietà e quindi su questo non vi posso aiutare.